Pace fatta tra Fedez e il Codacons, dopo querele, udienze, scontri, ieri è arrivato il Codacons rappresenta un segnale forte di solidarietà verso i tarantini, cittadini, lavoratori e bambini ricoverati nell'ospedale pediatrico, che ancora oggi L'incontro tra Carlo Rianzi e Fedez, davanti alla fabbrica, si sono aggiunte 30 vittime dell'ex Silva, le mamme dei bambini nati con gravi problemi genetici e Valerio Cecinati, primario de Carlo Rianzi e Fedez, davanti alla fabbrica, si sono aggiunte 30 vittime sulla trasferta a Taranto, però, esplode sulla trasferta a Taranto, però, esplode A sollevarla per prima è Selvaggia Lucarelli, che sui social fa notare, a parlare di morti e di Ilva con le magliette Spirito, Dai e Fedez Anche la giornalista Narita Di Giorgio affonda il colpo, Fedez viene a Taranto col jet privato per parlare dell'inquinamento ambientale di Ilva Nel giro di poche ore sui social, in tanti sparano a zero sul rapper, accusato di essere un opportunista che sfrutta temi così importanti per ripulirsi l'inquinamento E poi c'è chi fa notare, ma perché Fedez parla di inquinamento? Come se Totti andasse a parlare del Durante l'incontro c'è stato anche un botta e risposta tra Fedez e una giornalista Oggetto del contendere sono state le attività benefiche condotte, in particolare la richiesta di chiarimenti sulla pubblicazione del libro di favole Quando sarai grande Nessun tribunale o ente regolatore ha mai contestato l'attività, e i soldi sono stati effettivamente donati Nessun tribunale o ente regolatore ha mai contestato l'attività, e i soldi sono stati effettivamente donati Ovvero rovestare in tutte le mie attività di beneficenza cercando di trovare il pelo nell'uovo Ha risposto Fedez La giornalista contestava al re per un errore di comunicazione riguardo al momento effettivo della donazione Parlando di un'operazione balocco pro tempore, facendo riferimento alla vicenda La giornalista contestava al re per un errore di comunicazione riguardo al momento L'attività è stata fatta I soldi sono stati donati e né l'antitrust né nessun altro tipo di ente ha mai detto nulla Ha ribattuto Fedez, sottolineando che molto spesso i soldi L'attività è stata fatta Questo includeva i costi di produzione e il pagamento del personale Avrei potuto donare di più senza realizzare l'evento? Fedez a questo punto è sbottato, ma io faccio quello che voglio con i miei soldi E ho voluto fare un concerto per la mia c Quanto alla donazione del libro, ha precisato La somma di 15.000 euro è stata effettivamente donata all'associazione Infine ha toccato anche la polemica sui soldi donati per Amatrice State cercando di trovare cose che non A parlare di Morty e di Ilva con le magliette spiritose E soprattutto andare a parlare di inquinamento ambientale Con tanto di direttive al governo E salute dei cittadini arrivando Dai e Fedez aeroplano pic.twitter.com barra ggpz5oish0 Cancelletto Fedez viene a cancelletto taranto col cancelletto jet privato Per parlare del Dai e Fedez aeroplano pic.twitter.com barra ggpz5oish0 Cancelletto Fedez